Due furti con spaccate in una sola notte a Nardò dimira la salumeria da Cristian di via Alessandro Volta e la Rosti Pizzamania di via Pietro Bonfrato. I due esercizi commerciali distano circa 350 metri. I malviventi dalla salumeria hanno portato via circa 200 euro in soldi spiccioli. In entrambi i casi restano i danni causati per commettere il furto che sono ben superiori rispetto al bottino racimolato. Peraltro il titolare della salumeria è rammaricato perché la seconda volta nell'arco di pochi mesi che subisce un'irruzione del genere che rende difficile far quadrare i conti a fine mese. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Nardò che stanno ora indagando. I proprietari si sono accorti soltanto all'orario di apertura di quanto accaduto e dalle telecamere è emerso che malviventi hanno agito intorno alle 3 della notte. Sono stati diversi gli episodi di furti con spaccate in zona. A Galatone si contano quelli dell'area di servizio di via Almirante e di un altro locale del centro e soltanto 24 ore prima dei banditi hanno spaccato con dei martelli la vetrina del Modasi di Racale fuggendo con capi per 100.000 euro.